e siamo arrivati alle 8 e 10 minuti e quindi come sempre nella seconda parte di trasmissione arrivano gli ospiti quindi diamo il buongiorno a Diego Di Marro e Alessandro De Santis buongiorno al secolo verrebbe da dire Just For Love anzi un pezzettino di Just For Love due dei fondatori, due dei cofondatori appunto di Just For Love che cos'è Just For Love? è un creative studio, su Instagram voi dite creative studio nato nel 2020 a Milano e quindi la domanda è cos'è un creative studio? Allora un creative studio almeno per noi è uno spazio fisico che abbiamo appunto in zona Via Lecce Ortosa a Milano dove realizziamo progetti creativi di qualsiasi tipo per lo più nell'ambito sartoriale, allestimenti e stampa serigrafica questi sono i tre grandi macro settori che tocchiamo ma perché non ho detto quindi stilisti? fammi capire perché non ho detto stilisti cioè visto che avete a che fare con l'ambito sartoriale avete fatto la moda, cos'è la differenza? perché noi ci occupiamo sì di design ma anche di produzione in sé abbiamo sempre integrato le due cose per non tralasciare nella parte design anche quello che è tutto la manualità esatto, noi ci occupiamo sia dalla parte progettuale alla parte poi realizzativa, concreta quindi tutto il processo lo seguite fino appunto dal disegno immagino alla poi realizzazione pratica, alla stampa in alcuni casi come dicevate e anche credo poi alla distribuzione diciamo di marketing social e così perché poi c'è anche da quella parte lì anche in parte anche se sicuramente noi siamo molto più incentrati è una cosa che abbiamo ripreso molto, sono tutte le tecniche artigianali comunque quindi in un periodo in cui l'arte è più digitale noi ci siamo rimessi un po' a far andare le mani quindi niente stampanti 3D o cose strane anzi, figuriamoci che quando siamo nati puntavamo molto sull'autoapprendimento quindi era un discorso che era una base abbastanza solida di quello che eravamo all'inizio nel senso che per esempio sulla serigrafia che è la prima attività che abbiamo iniziato veramente in modo concreto figurati non in uno studio in Viale Certosa ma in una cantina quindi proprio venire dal basso quando si dice tutto nasce dal basso noi abbiamo imparato completamente in autonomia dal costruirci il telaio, le matrici di stampa alle tecniche di stampa quali inchiostro andava bene, come potevi stampare con quale tesatura mille questioni tecniche per il quale sbattendoci la testa poi abbiamo imparato quasi completamente in autonomia perché comunque il consiglio lo chiedi c'è sempre qualcuno disposto ad aiutarti che lo fa già e sì perché poi immagino appunto che come siete alla fine siete quasi un collettivo in un certo senso perché poi arriva gente si aggiunge vi contaminate tra di voi no? sì assolutamente comunque noi nasciamo come gruppo di amici in primis che durante il periodo del liceo inizia a farsi le domande che tutti gli adolescenti si fanno quindi cosa farò da grande noi ancora non l'abbiamo scoperto però nel mentre ci siamo adoperati abbiamo in primis come nostro gruppo e poi ecco il nostro piccolo network vi ho chiamato però quest'oggi perché partiamo da un articolo spesso partiamo dall'attualità da un articolo che abbiamo letto qualche settimana fa dove si parlava appunto della pulizia di certi murales in zona via Dino Compagni ma c'era scritto questo Imbrattamuri un barlume di speranza in via Dino Compagni quando ho letto Imbrattamuri ho detto oddio se fa ribrezzo a me la scritta Imbrattamuri chissà chi magari nel mondo delle graffite nel mondo della street art ci sta e quindi per questo vi ho chiamato e quindi dopo la prossima canzone mi dite qui com'è sta storia degli Imbrattamuri grazie, grazie, grazie non dovevate tutti questi applausi non me lo merito grazie mille comunque dai no questa è la frella mannoia quello che le donne non dicono invece quello che i writer non dicono potremmo dire questa mattina anzi quello che i writer dicono per questa mattina appunto parliamo di questo tema allora questo articolo chiamava Imbrattamuri coloro che scrivono sui muri cioè io ho fatto un po' così ho fatto un sobbalzo io immagino voi a leggere una cosa del genere sì più che altro quando conviene sono Imbrattamuri quando conviene è street art sì qualche giorno fa stessa praticamente testata articolo che diceva i murales che salveranno l'ambiente perché hanno fatto un murales che respira che salva l'ambiente quindi insomma giustamente dipende dal momento sì è un tema che si parla molto soprattutto in una città come Milano che la riqualifica all'ordine del giorno e ancora non si è capito qual è la direzione che vuole prendere il comune perché da un lato ci sono molte sponsorizzazioni quindi nel momento in cui la bomboletta viene utilizzata per fare una sponsor o una collaborazione con grandi partner che investono la street art ci piace poi quando bisogna andare a capire i meccanismi invece del writing dei graffiti che hanno sicuramente molte controversie ci si ferma a priori per la paura comunque di quello che è sporco confusionale sicuramente più underground di quello che è invece la street art fatta a fini commerciali Milano appunto abbiamo tutte le parti abbiamo tutto quanto qua a Milano e spesso ventieri fanno un po' punta di loro queste due realtà difficilmente riescono a convivere facilmente come nasce però appunto l'idea della street art sappiamo come nascono i graffiti è una storia lunga dovremmo andare nel passato e veramente parlare di secoli ormai quasi secoli fa ormai ma insomma a Milano c'è una grande cultura però della street art e dei graffiti sì assolutamente questo da una vita noi vi raccontiamo la nostra esperienza in particolare che è anche il nostro percorso formativo perché noi nasciamo come writer comunque persone appartenenti al mondo dei graffiti e sono state il nostro trampolino comunque per collegarci poi a tutto quello che è il mondo dell'arte e ci ha portato a quello che facciamo oggi sì trampolini o anche mezzo di distacco poi successivamente comunque graffiti e street art sono due cose diverse pur utilizzando gli stessi mezzi dal punto di vista operativo la bomboletta gli stencil più per street art che per graffiti e comunque appunto noi che venivamo da quel mondo di graffiti più graffiti meno street art comunque anche quello che abbiamo fatto che differenza c'è vedo che tu fai un discrimine street art e graffiti qual è la differenza sottile che io non riesco a cogliere ma che evidentemente è importante invece è una differenza nel senso che vabbè la street art molto spesso volentieri è legale è autorizzata ed è socialmente accettata ok perché quante volte ho sentito dire ma perché più che la scritta non mi fai un bel disegno ok quando spesso e volentieri la scritta e il bel disegno sono la stessa cosa la scritta è quello che ditemi se sbaglio spesso e volentieri vengono chiamate tag è quella roba lì o è anche altro no per lo più la tag è anche quella più odiata sicuramente ecco sui graffiti potremmo parlare tanto delle tag perché sono sicuramente quello più disprezzate dal cittadino ma allo stesso tempo è un lavoro tipografico che è la visione più scomoda la tag perché spiega una cosa interessante perché diciamo solo chi la fa e solo chi è dentro quel mondo può capire da dove viene chi la fa perché la fa in quel modo e soprattutto l'apprezzamento della tag ok perché a una persona che piace questo discorso tipografico come diceva lui ci sono mille stili caratteri mille cose che poi te la fanno apprezzare quando una persona di cui alla fine non ne frega niente vuole vedere il bel disegno ti dice cos'è sto scarabocchio perché spesso l'entieri tag si dice essere la firma però non è solo la firma non è solo quello giusto è proprio il tuo nome c'è sicuramente una mi piace che lo critica gente che poi sono le magliette però c'è il nome dell'artista del brand di alta moda che in realtà ha scritto anche con un Times New Roman mi viene da dire scusate di formazione professionale se vi piace la tipografia è tutto ricordate che siete in grande compagnia perché uno dei più grandi amanti della tipografia era Steve Jobs ad esempio lui era un grande amante della tipografia comunque dicevi quindi è complicato capire dagli outsider di questo mondo è complicato capire la tag anche sia perché viene fatta e il come viene fatta a me mi interessa più il come per esempio io faccio grafica amo la tipografia amo la creazione dei caratteri al di fuori dei graffiti a livello tipografico e di stampa e io mi guardo in giro per Milano e trovo tantissima ispirazione mi spiaggia se mi sento un po' preso così perché il nostro logo è fatto in elvetica quindi insomma so che è proprio il massimo della banalità possibile ma il concetto scusami che dice less is more ed elvetica è il carattere più bello che abbiamo mai fatto ok perfetto grazie salvati in corner crystal radio ci siamo salvati in corner dai no ma crystal in realtà c'è un altro fondo non usiamo l'elvetica loro no comunque voi però da questa da questo amore appunto per la street art da questa provenienza dai graffiti che dicevamo essere molto più underground molto più anche spesso di dire illegali comunque insomma navigano nella zona grigia avete poi fatto appunto un lavoro perché poi adesso invece il vostro just for love è a tutti gli effetti un lavoro oltre ad essere una bellissima espressione artistica culturale e anche però qualcosa di economico allora dopo vi chiedo come si fa a fare questo passaggio e come si fa a non essere i famosi venduti al capitalismo no perché poi qua è il problema ecco è come la musica indie poi fai un disco ecco adesso si è venduto alle major voi com'è che non avete dato a non vendervi al grande dio del fashion come avete fatto un po' di musica e poi ce lo dicono loro eri stai con later talking 8 e 25 minuti crystal radio good morning milano sempre qui 33178535555 il nostro numero di whatsapp poi potete comunque rivedere e ascoltare tutto su goodmorning.milano.it siamo qua insieme a due dei cofondatori di just for love stiamo parlando di Diego Di Mauro e Alessandro De Santis stiamo parlando di street art di graffiti ma anche di come poi dall'underground si può passare a farlo diventare un vero e proprio mestiere quello che avete fatto voi a just for love come avete fatto e quante critiche avete ricevuto no fammi capire un po' come facciamo ancora tuttora perché comunque siamo dei giovanissimi ancora la strada è lunga e le critiche ce ne sono state tante ma sinceramente abbiamo ricevuto sempre tanto supporto anche dall'underground anche perché vi chiamate just for love non just for hate quindi insomma sarebbe stato assolutamente ma comunque abbiamo estrapolato tutte le cose positive dai graffiti e abbiamo eliminato invece tutte le problematiche che ci sono come in in qualsiasi cosa nel mondo e quindi sicuramente ci hanno dato tanto abbiamo conosciuto tante persone in questi anni facendo i graffiti che ci hanno portato tutti quanti la propria esperienza e quasi tutti i writer alla fine hanno una seconda faccia ci sono tatuatori illustratori grafici fotografi fotografi quindi ci sono è un'arte che viene contaminata costantemente da tanti 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 altri input e noi quindi ci siamo un po' distaccati col passare del tempo da quello che era l'ambiente dei graffiti semplicemente che vi manca però ci manca Alessandro ti manca devo dire di sì ogni tanto facciamo qualche rimpatriata tutti quanti assieme però avevamo comunque necessità di nuovi stimoli perché comunque a lungo andare io personalmente ma credo anche Alessandro i graffiti avevano smesso di darci quello stimolo che ci dava la forza comunque di essere creativi nel quotidiano e quindi l'abbiamo dovuto evolvere in qualcosa di nuovo e questo nuovo Alessandro cos'è? cosa fate adesso? Cosa avete in serbo? Cosa uscirà dalla vostra non più cantina ma mai una volta c'era una cantina adesso basta ma già quello ci fa capire insomma i tempi sono cambiati no? Sono cambiati ma sono tempi ancora giovani giusto quindi cosa uscirà non ve lo possiamo dire ma vi dico che stiamo lavorando dai miei progetti e forse ci potrebbe anche essere una riscoperta dei graffiti in un altro mondo bene bene io prima che domandavo se avete fatto qualcosa per la fashion week mi hanno detto no per la fashion week no ma abbiamo un programma invece una cosa molto interessante per un'altra fashion day diciamo che però è molto posso dire molto più interessante della fashion week che vi va di raccontarmelo? Sì allora insieme alla nostra scuola io dico nostra perché è la scuola dove ho studiato io e altri due ragazzi di Just for Love che è Affol che nasce come centro per l'impiego milanese e poi negli anni ha aperto tutte le sue classi di formazione e ad oggi adesso da da un po' di anni comunque anche le classi di moda dove fanno sartoria modellistica product management fashion design c'è un po' di tutto e tramite loro che ci hanno selezionato come studio ci hanno dato la possibilità di partecipare alla fashion graduate che è questa sfilata che si terrà adesso tra il 22 e il 24 di ottobre al base Milano e noi insieme a tanti altri designer di tutto il mondo tutti studenti sfileremo con quattro outfit progettati da noi e realizzati dalle classi di sartoria dell'Affol quindi una commissione completa voi avete pensato ma poi la realizzazione è andata agli studenti attuali ed è una cosa che comunque ci rispecchia molto e noi ci troviamo i vostri nipoti esatto i vostri nipotini i vostri fratelli minori ci rispecchia perché comunque anche Affol ha un'ottica dell'educazione molto sul sul fare sul mettersi molto interessante molto interessante perché insomma spesso in Milano si dice una città della moda e tutto però poi rimane tutto fermo un po' al patinato alla fashion week grandi paroloni grandi epipeti e grandi nomi soprattutto e invece per fortuna che allora insomma c'è spazio anche per c'è spazio Milano è una città che ti stringe molto ma sicuramente ti dà delle opportunità esclusive bene allora rimanete qui perché adesso mandiamo un po' di musica poi abbiamo qualche consiglio per gli acquisti a proposito di business come parlavamo prima ma poi torniamo e vi diamo anche tutti i contatti tutto insomma come fare a seguire meglio il lavoro di Just for Love e continuiamo a chiacchierare appunto su questo mondo che era un mondo underground sempre di più sta diventando un mondo invece sopra no sta venendo a galla ma ovviamente con le sue contraddizioni che però si porta dietro e forse insomma è anche il bello di questi mondi ok che non sono tutti così schematizzati come possiamo pensare di volere una vita schematizzata invece un po' di sana follia un po' di sano caos spesso e volentieri ci vuole un po' di musica 4, 2, 3 consigli per gli acquisti e poi torniamo qui sempre qua Cristian Radio Good Morning Milano Giovanotti il più grande spettacolo dopo il Big Bang spettacolo che insomma anche a Milano si può spesso e volentieri vedere nei murales nei graffiti insomma e poi lì c'è da capire quanto sia decoroso o meno in certi punti della città alcuni li chiamano arte altri li chiamano Imbrattamuri Imbrattamuri è brutto però è proprio brutto Imbrattamuri è veramente brutto ma vorrei farvi cadere l'occhio sui graffiti puliti che lì veramente sono dei rovinamuri che si mangiano via strati e strati di storia milanese sopra queste pareti storiche è infatti anche quello infatti le voci che sentite sono quelle di Diego Di Mauro e Alessandro De Santis cofondatori insieme ad altri giovani di Just For Love questo questo è veramente collettivo mi chiamavi scusate so che è un po' siamo la versione moderna di un collettivo è questo infatti siamo un po' desueto collettivo però nel senso creative studio li chiamate voi giustamente ma ci sta giustamente i tempi si immodernano e anche le definizioni giustamente vanno con loro parlano un po' appunto di come dall'underground si può poi salire e uscire la luce del sole e poi di come spesso e volentieri ci sono anche le due facce insomma si continua a volte alcuni fanno ancora graffiti altri sono magari dei trattatori parlavamo così e tutto questo insomma viene spesso e volentieri anche mostrato poi sui social ormai sono fondamentali anche se so che mi dicevate prima voi siete il digitale meno possibile meno possibile digitale dovremmo essere a livello teorico dei nativi digitali però nel concreto forse dentro siamo più boomer perché siete analogici nel vostro dentro ma prima un altro fenomeno che sto notando io lo collegavo in un certo senso adesso mi spiegate invece perché non dovrei collegarlo è quello di questi ragazzi spesso e volentieri molto molto giovani che si arrampicano su varie situazioni cittadine cantieri palazzi stazioni così per poi fare delle foto bellissime devo dire la verità dei video pazzeschi da in alto di questi spot come vengono chiamati loro io l'avevo sempre collegato un po' appunto anche al graffitto quello che è il writer che sale va su e fa il grande graffitto in alto invece non è proprio così soprattutto a Milano no è quello che dicevo prima appunto allora questa cosa viene fatta dagli anni 90 agli anni 80 dai writer che appunto dipingevano per raggiungere lo spot quello che fanno loro si chiama urbex quello che fanno i writer si chiama graffiti e il graffito spesso fatto in certi spot in alto in posti abbandonati comprende l'urbex ok dipende secondo me lo scopo quale si fa e come dicevo appunto adesso questa cosa è molto più facile e veloce documentare e pubblicarla secondo me è spettacolare quello che fanno questi ragazzi penso più giovani di noi sono molto molto giovani voi quanti anni avete? 22 ok sono molto molto giovani al limite della maggiorità spesso sono anche minorenni sì noi prima abbiamo separato le questioni perché per il nostro vissuto è una cosa che adesso ha fatto scalpore in particolare soprattutto dopo il selfie con la madonna a fianco sicuramente quello è stato un grande colpo per l'istituzione milanese è una cosa che a mio parere stiamo esportando molto dall'estero soprattutto dalla Francia in questo periodo ci sono in Francia molti writer invece l'abbiamo visto fare là quindi l'abbiamo importato in Italia lo abbiamo ripreso l'abbiamo ripreso l'abbiamo ripreso perché sicuramente in Francia c'è invece una grande unione tra urbex e graffiti quindi con il fatto dei tetti calpestabili c'è proprio una un'architettura diversa che lo permette cioè questi due mondi si uniscono molto di più a Parigi e Berlino si fa tantissimo questa cosa tantissimo se ci pensi che metà della stiera di Lupin è fatta sui tetti di Parigi con lui che ci cammina sopra effettivamente la voglia ti viene se tu prendi la metro a Berlino la sopraelevata vedi tutti i tetti dipinti tutti i tetti sì ci sono diciamo che rientra in tutto quello che è queste discipline metropolitane perché poi mi viene in mente anche il subway surfing i ragazzi che questa è una cosa che io in Italia non ho mai visto fare per ora se non casi sporadici sono questi ragazzi che si mettono cioè che scalano le metropolitane o i treni e vanno in corsa quindi rimangono sopra mentre il treno in corsa ok meno male che l'abbiamo visto in Italia mi viene da dire cioè nel senso è una cosa più fortuna che facciamo le gallerie basse esatto almeno non si fa è un po' comunque nel concetto dell'urbex questo qua adesso diciamo non è un po' un pochino pericoloso mi viene da dire è pericoloso quello è il bello ah ecco tu dici da quel punto di vista è quello cioè la scarica di adrenalina concretamente è innegabile dire che non sia pericoloso cioè si può fare tutto quanto con buon senso nella vita però ti stai comunque mettendo in una situazione in cui è giusto avere una certa cura e ieri il corio della sera diceva però che c'è questo tema è illegale la cosa vengono appunto anche denunciati vengono fatti processi e tutto ma sembra questo non essere un deterrente per niente come mai questi ragazzi non io penso che nella società ci sia una fissa un'ossessione di ciò che è legale che è legale c'è sempre questa ossessione a dire questo si può fare questo non si può fare e siamo sempre lì a vedere questa cosa secondo me bisognerebbe un attimo uscire da questo schema e vedere le motivazioni non è facile una società come Milano con un milione 400 mili abitanti di dire facciamo un po' tutto quel che ci pare le motivazioni umane per cui si fanno certe cose più che quelle di forma e di legalità ok ma qui non è solo voglia di comparire sui social voglia di fare qualche like probabilmente c'è anche quella componente Alessandro scuota la testa invece secondo me non voglio far sciogliere just for love non vorrei che poi litigate potrebbe essere una componente diciamo Alessandro scuotevi la testa dimmi secondo me c'è molto altro cioè io facevo i graffiti me non li facevo per pubblicarli su Instagram o per l'adrenalina cioè a me per esempio l'adrenalina non fegava nulla era bello quando andavi in certi posti e ti rendevi conto che solo tu e pochi altri avevate calpestato quei binari avevate calpestato quei posti dove stai facendo quel graffiti lì secondo me c'è una concezione molto simile di unicità del momento rispetto all'illegalità noi vediamo l'unicità come una cosa appunto l'ho posto poi su Instagram per fare il figo con gli amici anzi con tutto internet ma non è quello c'è l'unicità invece del dire io sono uno dei pochi che ha calpestato quel luogo che ha visto quel luogo che ha visto quel luogo da quel punto di vista che sono pazzeschi ho visto delle foto che sono qualcosa di stupendo effettivamente diciamo che quando hai 15 anni ti sembra un po' di essere Armstrong che fa il primo passo sulla luna nel senso io sono il primo che è stato qua e uno dei pochi che calpesta questo posto per quanto sia lontano dal mio mondo l'urbex il selfie quello con a fianco la madonnina è una cosa che è impagabile chi è mai stato abbracciato la madonnina di Milano e no credo solo quello che l'ha fatta nessun altro nessun altro beh questo capite è come affrontare un tema nel senso che è facile dire che sono solo dei deficienti che si arrampicano sui monumenti invece forse è qualcosa di più e quindi grazie invece a Just for Love che ci dà anche una visione diversa e che può essere interessante per comprendere meglio questo tema che sicuramente poi bisogna gestire perché insomma non è che possiamo essere fatiche che ci arrampichiamo tutti qua e là però è una bel modo di vedere le cose senza invece subito andarci contro Imagine Dragon con Demons 8 e 51 minuti siamo arrivati alla fine praticamente non prima però di salutare Diego Di Mauro e Alessandro De Santis Just for Love e diteci anche come fare a seguire quello che fate insomma che fate una cifra di cose quindi si facciamo un sacco di cose se volete seguirci su Instagram ci trovate come Just4lovers e in generale adesso stiamo ampliando un po' i nostri social comunque su Instagram ci trovate e ci potete contattare in generale per qualsiasi cosa veramente qualsiasi cosa perché fate veramente tantissime cose Alessandro vero? si 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 laboratorio abbiamo una parte sartoriale con delle macchine industriali per cucire una parte di allestimenti dove facciamo realizzazione di set design per eventistica e shooting fotografici per lo più e poi una stampa serigrafica quindi un laboratorio serigrafico dove stampiamo dentro dal tessuto la carta comunque poi ci occupiamo di grafica direzione creativa ci mettiamo un po tutto quanto tutto quello che sappiamo fare infatti siete tanti perché siete un bel numero siamo in cinque ogni tanto orbitiamo sui sei ma comunque abbiamo tutto un network di persone che ci gira attorno con la quale ci piace collaborare bene allora just for love lo trovate su instagram punto just 4 lovers grazie diego grazie alessandro alla prossima grazie a voi no voglio sentirevi quando poi fate la sfilata dei graduate voglio vedere le vostre creazioni va bene va bene grazie mille andiamo con l'ultima canzone poi ci ritroviamo qui solo per i saluti finali perché sono già le 8 e 53 è tardissimo oggi